Volata finale per il segretario del PD Bersani che in vista del voto di domenica e lunedì conclude la campagna elettorale con un bagno di folla nelle tre regioni decisive per il Senato. Dopo il comizio a Piazza Duomo a Milano con Vendola, Tabacci, Pisabia e Ambrosoli, oggi Bersani sarà a Palermo in Piazza Verdi di fronte al Teatro Massimo dove parlerà ai militanti, agli elettori siciliani insieme a Matteo Renzi, sindaco di Firenze. Giovedì pomeriggio Bersani è atteso infine a Napoli dove il PD Campano ha preparato un appuntamento di popolo in Piazza del Plebiscito. Venerdì 22 febbraio Bersani, come molti candidati del PD nel Lazio, sarà impegnato in un'iniziativa diffusa. Ciascun candidato andrà a confrontarsi e a parlare in un luogo simbolico che rappresenta uno dei temi centrali del programma di governo del centro-sinistra. Tra i numerosi appuntamenti Maria Coscia incontrerà il personale docente e i precari della scuola pubblica presso l'Istituto di Donato in Via Bixio a Roma. Ignazio Marino incontrerà gli operatori sanitari all'ambulatorio medico di Piazza Istria, mentre Pietro Grasso incontrerà i giovani universitari alla Sapienza presso la Facoltà di Giurisprudenza. Raffaele Ranucci e Roberto Morassut incontreranno i cittadini del quartiere Eur per parlare di tangenti PDL Filobus Eur Spa. Michele Meta incontrerà i lavoratori dell'azienda dei trasporti pubblici ATAC di Roma in Via Prenestina. Il lavoro sarà al centro di questa giornata di iniziativa diffusa del PD, per questo Bersani si recherà in una grande azienda della capitale, la Thales Alenia Space. Poi nel pomeriggio, insieme al candidato alla presidenza della regione, Nicola Zingaretti, il leader del PD incontrerà i volontari e i militanti romani che stanno animando la campagna elettorale all'Ambra-Giovinelli. Sarà un modo per ringraziare attraverso i volontari di Roma tutti coloro che in questa campagna elettorale stanno lavorando alla volata finale per la vittoria del Partito Democratico. Ma non basta perché in questi giorni in tutta Italia sono in corso iniziative di chiusura, fra queste volantinaggi in importanti stazioni ferroviarie e mercati, il giro delle piazze partigiane in Liguria a Genova, faccia a faccia con i cittadini a Firenze in Toscana e naturalmente incontri in piazza con i candidati del PD.